la mattina fino alla sera questo è il mio lavori sempre bella serie di pelle non vorrei che però nascisse una cosa più tipo a sfotto a questo voglio capire no 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 per l'attività e faccia e per tutto non vorrei che fosse una cosa perché non ho capito il senso della cosa non te l'ho mai chiesto però essendo io quindi è una cosa chiaramente ovviamente capito se mi sono prestato il film e ci passiamo una domanda sulla crisi però visto che aduni servizi di enrico proprio per il suo modo chiaramente poi non potrebbe essere una battuta no assolutamente che non vorrei che fosse proprio la natura del servizio questa perché sai con l'attività che faccio la cosa diventa poi guarda qui in giro me no no ma anche me ma più l'importante capire che non sia proprio la natura del servizio a dire che dopo di me viene il napoletano qualcuno è un locale che vale e poi scrive il nome no 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 l'unica cosa c'è per dirvi ma questo te lo dico perché ne so se magari andiamo a una serie in disco delle cani no 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 ma non ho chiesto di cosa magari bella ma che queste cose qua vabbè ma quello è un po me non ho chiesto di cose da stasera un peccato se mi sei impegnato in tutto l'ho fatto poi magari una cosa vabbè ma tanto me lo vedi se ne so chiaramente in discoteca c'è no vabbè no ma io capisco ma pure qui ci vuoi essere una partita ma è pure il discorso lo legge io questo libro ma questo te lo regalo anche perché è veloce senti no andiamo sulla questione della crisi sì ecco cioè esiste oggi insomma millantano questa siamo invasi da questa concezione della crisi ormai stanno in crisi pure quelli che non stanno in crisi allora io facendo una piccola premessa volevo dire che io credo questa è la mia personalissima opinione era nata l'esigenza lui il primo piano ce l'è buono sì sì no l'unica cosa scusa non te lo dico non guardare me ah ok io magari se ti faccio delle domande aspetta che se li vedete tu e non vi accavallate cioè nel senso finisce di parlare tu o lui e poi parlate sopra perché sennò poi è un casino tagliare capito ok quindi e non guardare me mi riguarda sempre lui o comunque allora per quanto riguarda la crisi io penso che era nata la un'esigenza politica una volontà politica più che altro di togliere la sovranità al popolo oggi noi ci troviamo ad avere un presidente del consiglio e dei ministri che non sono stati eletti dagli italiani questo fino a qualche anno fa è impensabile o comunque sarebbe stato causa di una rivoluzione quindi quindi per come posso dire per anestetizzare il popolo italiano e renderlo quindi accondiscendente ad una tale distorsione della democrazia bisognava terrorizzarlo noi sappiamo la storia ci insegna con l'esperienza delle dittature che quando un popolo è terrorizzato accetta passivamente determinate cose quindi è più facile imporre delle idee da parte di altri e questo è stato fatto agli italiani e quindi la crisi era un anestetico indispensabile ai fini di questa operazione quindi è stata creata ad hoc la crisi è stata creata ad hoc perché è stato detto agli italiani l'Italia sta fallendo, l'Europa ci manda da via in parte possiamo dire che la crisi è stata inventata su... per questo scopo politico, quello di togliere la sovranità al popolo come si faceva? ti faccio la domanda perché è stata inventata la crisi? perché? per arrivare a raggiungere... per me la crisi è stata inventata per me la crisi è stata inventata per togliere la sovranità al popolo italiano questa era un'idea politica come poter realizzare un'idea politica tanto assurda quindi come poter fare una distorsione della democrazia in maniera così palese senza che il popolo facesse appunto una rivoluzione possiamo dire che per te la crisi è stata inventata per far andare al governo il governo Monti? sì, possiamo anche dire così togliere la sovranità al popolo quindi imporre una persona quindi evidentemente c'è stato un diktat da altre nazioni che avevano l'esigenza di mettere delle persone loro anche a capo del governo italiano e l'hanno fatto in questo modo quindi ecco possiamo... dire che per Francesco la crisi inesistente è stata creata apposta per far andare al governo Monti se la fa sì per far andare al governo persone non scelte dal popolo quindi bisognava trovare qualcosa che spaventasse il popolo da renderlo passivo e presentargli poi davanti a determinate decisioni che lui si è trovato ad accettare perché spaventato da tutto quello che potevano essere le conseguenze perché se gli dice agli italiani tu stai fallendo l'Europa ci sta mandando via l'unica cosa che puoi fare è fare quello che diciamo noi e accettare le persone che ti imponiamo noi l'italiano in una fase di paura generale ha aspettato passivamente e sta continuando a subire passivamente dimmi una volta che hai strafatto no, vabbè no strafatto non è nel mio costume, nelle mie abitudini però sicuramente è capitato in delle occasioni di aver festeggiato ti posso chiedere se ti sei concesso delle cose qualche cosa, non so una cosa che ti fa piacere dire che ne so come si chiama il cartiz non so il croce come si chiamano eh, non so di, via una sera abbiamo festeggi no, un'occasione quello che ti chiedevo io cioè se ti ricordi un'occasione di divertimento tra amici cioè particolare, capito? e poi era interessante quella cosa che mi hai detto anche al telefono che comunque tu ovviamente è inutile che fai parte della Napoli bene no? della Napoli insomma sì cioè che comunque anche qui a Napoli nei weekend cioè è tutto pieno sempre sì sì assolutamente sì allora partiamo scusa non ti accavallare mai con me guarda sempre lui mi è capitato una volta cioè e dice una cosa che aspetta un attimo 3 2 1 ecco motivalo eh perché è interessante dare sempre dei limiti se no sembra una sorta di vai i soldi ce stanno i soldi chi ce li aveva li continua ad avere l'unica cosa è chi ce li ha è spaventato perché adesso a questo punto comincia a vedere questi scenari apocalittici e pensa forse un giorno non li avrò più neanche io fammi essere oculato ma questa oculatezza viene solo nei periodi in cui lui è bombardato mediaticamente quindi quando chi ci governa vuole rincarare questa dose di anestetico per metterci paura e quindi ci bombarda allora magari si è più oculati quando cambiano quei periodi che appunto dicevo prima magari di vacanza dove si legge di meno si guarda meno la tv si sciolgono i freni è un'idea nata da te che tu le hai buttate sì è nata da te allora cioè questo ti dimostra buttate mi siete accavallate tre due uno vai si sente un regista quando fa tre due uno quindi esatto cioè quelli che fanno i furbi che fanno finta di non avere i soldi ecco come agiscono ma c'è pure l'idea dell'accattonaggio di fingo c'è una mosca che gira è caldo no no è una mosca ascolta c'è c'è pure chi sfrutta quest'idea della crisi per farsi pagare la roba cioè fingendo una crisi che poi non esiste cioè c'è una linea abbiamo paghi del ristorante così non so c'è questo questo meccanismo è un meccanismo sicuramente che ci sarà fortunatamente nella mia cerchia di amici questa è una cosa che siamo tutti amici però sicuramente esiste come prima magari non lo so Umberto mi eravate detti delle cose che 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 volevi di no soprattutto no io più che altro questa cosa di Monti cioè la ridirei ma senza nominare Monti ti spiego anche il perché perché ma non l'ha mai nominato non è stato un po' mai questa cosa perché magari andiamo in onda in generale ci saranno molti fino a prima cioè comunque non fai nomi poco sì no no ma fa perché poi entriamo in parcondi c'è un casino capito cioè non vanno nominati no mi interessa questa cosa che mi dicevi anche al telefono no della la vacanza è un charter organizzato quindi da diverse persone amici tuoli anche senza nominarli basta che lo dici no ma lato poi ce la dice anche Francesco che mi ha nominato questa cosa però insomma per capire un po' giustamente che tu magari cioè tu hai pure 35 anni hai studiato quindi sei un po' più profondo rispetto al ragazzino che ti fa influenzare però diciamo forse è giusto dirlo questa cosa che poi dopo un percorso no perché non è che ti immagino che a 20 anni pure a te diciamo che un percorso che ti ha portato a queste cose e poi nella quotidianità trovi delle discrepanze sennò delle cose inventate cioè utilizza sempre termini semplici aspetta un attimo vai vai cioè su questa cosa qui spiega bene quello che vi siete detti quindi ero stato invitato a prendere parte a questa fine settimana ed era stato fittato da diversi amici quindi il prezzo diciamo era quanto un prezzo quasi di un biglietto aereo normale però riempire tutto un charter per andare in vacanza in Spagna e io non sono andato personalmente perché non ho potuto però comunque anche il charter è stato riempito la vacanza è stata fatta quindi questo quando quest'estate sì quest'estate sì cioè che è successo quest'estate c'era un charter per Ibiza quindi per andare tutti gli amici in Ibiza sono quei charter che si fittano le compagnie per fare cioè hanno affittato un aereo da soli sì tante diverse persone diverse persone insieme e quindi e hanno pagato va bene hanno pagato una cifra sicuramente più alta rispetto a quella che può essere un aereo ecco per esempio i tuoi amici hanno affittato un aereo privato per andare a Ibiza l'estate sì è capitato che ci sono sì alcuni miei amici sì alcune persone è capitato amici che hanno affittato anche un aereo ovviamente non parliamo di aver affittato un aereo nel senso prendi un charter e lo paghi prendi un charter e lo paghi paghi un biglietto che è sicuramente superiore a quello di un aereo normale perché si mette insieme un tot numero di amici ci stanno altre cose che ti fanno capire che la crisi è inventata Francesco è vero che tutto questo è così cioè la crisi sicuramente è stata inventata la crisi sicuramente è stata inventata amplificata e chiunque ha avuto il suo interesse a fare tutto questo però c'è pure qualche piccola fabbrica qualche cosina che qui qua e là chiude no? ecco questa piccolissima cosa allora io questo da imprenditore lo posso dire in prima persona la crisi è stata qualcosa di inventato per dei precisi scopi politici ma chi l'ha inventata ha fatto anche in modo che si verificasse anche materialmente perché se oggi ti faccio spaventare parlandoti di crisi e tu però nel giro di 2-3 anni dopo che ti sei un attimo fermato questa crisi non la senti e tu continui riprendi a spendere invece la crisi è stata inventata per dei scopi politici e poi è stata alimentata da delle scelte politiche mirate e se uno ci crede fallisce cioè se uno si fa condizionare da questa cosa fallisce però se uno non si fa condizionare riesce a superarla se uno non si fa condizionare riesce a superarla io posso portare l'esempio mio che siamo comunque un'azienda in un settore martorizzato dallo Stato e con grande difficoltà ma ci siamo rimboccati le maniche e stiamo andando avanti siamo il settore più martorizzato d'Italia possiamo dirlo chiaramente questo concetto che se uno non si fa condizionare dall'idea della crisi se non vi fate condizionare dal pensare che stiamo in crisi la crisi potete superarla è sicuramente più facile far fronte a qualcosa senza essere condizionato da esso quindi sicuramente questo concetto lo condividi quello che ho detto non farvi condizionare sicuramente ti aiuta a superare la crisi al momento in cui diciamolo bene se uno per voi che ascoltate se non vi fate condizionare dalla crisi assolutamente se non vi fate condizionare dalla crisi sicuramente la crisi non investirà anche quelle che sono le vostre le vostre aziende la vostra vita il vostro quotidiano tu sei ottimista sì devo essere per forza la filosofia che mi accompagna quanto è importante l'ottimismo l'ottimismo è fondamentale questo lo dico perché se posso dare un esempio mio personale noi per esempio lavoriamo con le ASL l'ASL del mio quartiere è l'ASL peggiore d'Europa è stata oltre a questo c'è una legge solamente unica in Campania quindi unica in Europa che non ci permette neanche più di fare il decreto ingiuntivo per recuperare a livello giudiziario i nostri crediti questo che vuol dire perché mi riallaccio alla cosa dell'ottimismo un imprenditore del nord nella mia condizione c'è 16 mesi che l'ASL non paga lo Stato però vuole essere anticipato tutto i contributi le tasse equitale eccetera con una legge che ti impedisce di poter andare dal giudice per ottenere i tuoi soldi quindi una legge sull'impenerabilità che non ti permette di fare i dettagli ingiuntivi si era messo un cappio al colo e si era ucciso e te invece? è invece noi questo perché il discorso che faccio il napoletano che la macchia è più che il camaleontico noi abbiamo deciso invece di rimboccarci le maniche continuare a tenere quello che abbiamo in convenzione quindi da fare con le ASL abbiamo aperto però nuovi reparti privati con delle tariffe basse accessibili a tutti per far fronte con la liquidità a quello che era la clinica è tutta qua dentro e tutta qua qua sopra sarà com'è sì primo piano spiega anche quella cosa interessante che poi è giusta anche che alla fine non ti può permettere manco di dire ok perfetto io devo avere che ne so 100 c'è questa cosa qua e quindi tu hai preferito guadagnare un po' di meno da tutti ma di avere una fascia immagino non lo so corregge ma avere una fascia di pubblico più alta quindi per quanto riguarda appunto la mia esperienza nell'azienda che io lavoro appunto con lo Stato quindi mi rendo conto che siamo stati indotti proprio al fallimento quindi la crisi non solo te la inculcano poi fanno in modo che tu ci cada e questo per esempio nel mio caso noi vantiamo tantissimi crediti nei confronti dello Stato perché nei confronti dell'ASL nonostante ciò dobbiamo pagare le tasse quindi non è stata fatta neanche una compensazione se lo Stato mi deve a me 100 io devo a lui 30 poteva essere fatta una compensazione invece no noi siamo costretti ad anticipare tasse e contributi pagare tutto e non possiamo neanche rivolgerci al giudice per ottenere i nostri soldi e cosa ancora più assurda il decreto ingiuntivo se io lo faccio nei confronti dell'ASL non posso pignorare perché c'è una legge che lo blocca se il mio fornitore lo fa a me mi vengono a pignorare quindi praticamente è come mettere un pugile sul ring con le mani legate e quindi tutto va sull'ottimismo è un po' come non lo so tipo un esempio magari è un po' come fare una specie di mobbing no? tipo come quando tipo 5 ragazzi si mettono addosso a uno e dicono tu sei uno sfigato tu sei un perdente cioè quella alla fine pure se non lo è si autoconvince di questa cosa qua no? cioè quindi è una specie di mobbing che si sono questo parliamo della crisi della crisi sì vi ho fatto un esempio non so tipo 5 ragazzi dicono a uno gli fanno la pressione tu sei un cretino cioè diciamo diciamo ecco partiamo dalla crisi e spieghiamo questo concetto no? perché è interessante quello che dici cioè che è una specie di bombardamento psicologico no? che alla fine la gente si autoconvince di una cosa che poi non è vera capito? cioè spieghiamo questo concetto di mobbing è interessante che mi aspetta vai vai esiste anche una forma di mobbing questo per quanto riguarda la crisi sicuramente un mobbing psicologico certo perché magari il mobbing è psicologico va bene va bene per quanto riguarda sì sicuramente c'è la difficoltà anche di mantenere vive le cose che uno ha creato perché con questo bombardamento continuo psicologico che ti fanno si è subito portati a pensare magari di chiudere di limitarsi a piccole cose di cercare di avere quanto meno possibile mentre prima un imprenditore nasceva e sperava di poter ampliarsi quanto più possibile oggi io lo vedo con i miei colleghi e l'ho vista anche la mia esperienza personale c'è una vera e propria una sorta di mobbing dove tu hai una posizione speri di andare a una posizione inferiore cioè io adesso sarei più contento di avere una struttura più piccola una struttura che ha meno pazienti perché comunque sono stato messo nella condizione di vedere la crescita come un valore negativo non più come un valore aggiunto l'ultima cosa diciamo questa cosa che tu hai studiato una teoria cioè che ci sei arrivato perché se no sembra che è una specie di percorso che hai fatto giusto? di cosa la direi? sul fatto che ne so della meditazione di cioè quello che ti dicevo prima che tu a 35 anni sei diverso rispetto a 10 anni cioè hai capito questo inghippo questa cosa perché comunque è approfondito invece altre persone magari si fermano all'apparenza capito? non lo so se lo vuoi dire cioè che il fatto che detto in parole povere è che tu hai approfondito alcuni concetti e quindi si è arrivato a questa teoria cioè non è che ti sei svegliato e hai detto ah la crisi per me non esiste cioè che hai approfondito questi concetti attraverso lo studio cioè se lo vuoi dire però mi sembra importante come concetto aspetta un attimo via io ho la fortuna di parlare per esperienza perché oggi a 35 anni padre anche di una bambina di quasi 10 posso mettere sulla bilancia quello che è stato il mio passato la mia gioventù passata anche in maniera molto frivola nei locali magari dando eccessiva importanza all'esteriorità al mostrare più che all'essere fortunatamente con gli anni ho avuto la possibilità di arrivare ad una consapevolezza e quindi ad una maturità che mi ha portato invece al contrario a concentrarmi su tutto quello è il mondo dell'invisibile dell'essere e meno dell'apparire però questo oggi mi dà quella marcia in più di poter vedere le persone che oggi vedono i locali o per la strada fare cose magari che tutti giudicano esagerate o spropositate e avere la possibilità comunque di entrare nei loro panni e capire che cosa che è una fase indispensabile a volte anche nella vita di un ragazzo perché oggi purtroppo è questa la colpa non è solo la nostra ma lo vediamo anche con i media se il modello è del ricco bello e potente è ovvio che un adolescente che cresce vuole entrare in una discoteca e dare un'idea di essere bello ricco e potente perché quello è l'esempio che oggi viene dato è la persona a cui ispirarsi quindi mancando dei modelli una volta ci si poteva ispirare magari alla politica c'era il giovane che magari aveva la passione per la politica e si ispirava al politico di turno farlo oggi sarebbe ridicolo meglio a questo punto ispirarsi a quello che fa casino in discoteca che apre lo champagne che a quello che ruba i soldi pubblici con quella mano sempre questo qua no questo è proprio iene è un'esempio è un'esempio Grazie per la visione!